La CGL fornisce i dati aggiornati che fotografano l'emergenza occupazionale a Milano. Sono 158.000 i cittadini senza lavoro, il tasso di disoccupazione ha toccato l'8,2%, ma è stata anche l'occasione per censire la presenza milanese alla manifestazione del 25 ottobre a Roma, pronti 65 pullman e un treno speciale. Il quartiere di Piazza 24 Maggio è in rivolta, i residenti stanno raccogliendo le firme per chiedere l'abbattimento del chiosco adibito alla vendita del pesce, un'opera che considerano un nuovo ecomostro. Abbiamo raccolto la loro protesta e ascoltato le loro ragioni. Procede a ritmo serrato il lavoro di restauro della galleria. In questo momento il personale impegnato nell'opera si sta occupando dei portici nord e sud. L'assessore Carmela Rozza ha effettuato un sopralluogo per fare il punto, ma non mancano le polemiche dei rappresentanti del centrodestra milanese. Milano è al terzo posto nella classifica delle mete turistiche destinate a diventare più popolari nel 2015 e pubblicata dalla celeberrima guida Lonely Planet. Il capoluogo lombardo, atteso dall'esperienza di Expo, è l'unica città italiana presente nella lista. Buonasera a tutti e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TGN. Era il primo dei nostri titoli, lo avete visto. La CGL, la Camera del Lavoro di Milano, ha sostanzialmente dato nuovi dati sull'emergenza occupazionale. Siamo arrivati all'8,2% come tasso di disoccupazione in città. Sono quasi 160 mila le persone che non hanno un lavoro. È stata però anche l'occasione per parlare della manifestazione del 25 ottobre a Roma. Anche Milano sarà presente. Vediamo come. 6-7 mila persone partiranno da Milano alla volta della capitale per partecipare alla grande manifestazione prevista in piazza San Giovanni a Roma. Sabato 25 ottobre per protestare contro la politica economica e la riforma del lavoro del governo. L'annuncio è stato dato oggi alla Camera del Lavoro del capoluogo Lombardo. Sono pronti i 65 pullman più un treno speciale. Poi vi saranno lavoratori di aziende che andranno con mezzi propri. Insomma, si prevede un'affluenza molto significativa. Noi vogliamo capire qual è il verso del paese, qual è l'indirizzo che questo paese vuol prendere e Milano fa la sua parte. Non riusciamo a capirlo. Ci sono molti provvedimenti che si stanno prendendo poco chiari sia nella manovra economica e finanziaria del governo, la vecchia manovra economica e finanziaria, oggi manovra di stabilità, che nello stesso Job Act. La sostanza non può essere che mi trovo e care che va via da Milano per andare da un'altra parte del paese, perché magari sfrutterà una legislazione che si sta introducendo in questo paese e che porta vantaggi. Perché se passa questa linea noi avremo migliaia di disoccupati, diciamo nei call center milanesi, che si sposteranno da altre parti perché prendono dei vantaggi. Sempre oggi la CGL ha diffuso dati allarmanti relativi alla provincia di Milano. 158 mila persone sono senza lavoro. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto l'8,2%. Il 36% dei disoccupati è rappresentato da giovani al di sotto dei 29 anni. Il 16% da persone con oltre 50 anni di età. Estremamente problematico per questi trovare una nuova collocazione. L'operazione Garanzia Giovani ha avuto, secondo la CGL, scarso successo. Il 27% di chi ha perso il lavoro è di età compresa tra i 30 e i 39 anni. Infine sono oltre 5 milioni le ore di cassa integrazione richieste. Un dato che pone grossi problemi al governo che intende rivedere gli ammortizzatori sociali. Vuol dire che in questo momento non ci sono le condizioni per creare un nuovo lavoro. Passiamo dal 7,8%, che era il dato peggiore che Milano e la sua vecchia provincia oraria metropolitana aveva vissuto dal 71 ad oggi. Oggi siamo all'8,2%. Se non creiamo posti di lavoro, io credo che questo dato Milano non potrà recuperarlo rapidamente. Neanche con Espo. Una buona notizia però per Milano oggi è arrivata perché il capoluogo Lombardo è tra le città turistiche migliori in previsione per il 2015 secondo l'Only Planet che ha inserito il capoluogo Lombardo nel suo Best in Travel per il prossimo anno. Guida che raccoglie e suggerisce le tendenze di viaggio, le metti e destinate a diventare più popolari. La città di Expo 2015, e gran merito è sicuramente da dare all'evento espositivo, è l'unica città italiana selezionata e va sul podio dopo Washington e il piccolo villaggio di El Chalten in Argentina, prima di Zermatt e superando capitali come Vienna e Toronto. Che Milano sia stata selezionata dalla prestigiosa guida ci lusinga molto, ma non ci sorprende, ha detto l'assessore al turismo Franco D'Alfonso. Milano infatti è negli ultimi anni sempre più meta di turisti e mantiene la fama di polo attrattivo per investimenti e nuove attività economiche nella nostra regione e in tutto il paese. Lavora ogni giorno di più per migliorare l'offerta di servizi in vista dell'esposizione universale e per affrontare la sfida del dopo Expo. Raccolta di firme invece protesta in piazza 24 Maggio. Non vogliono il chiosco per la vendita del pesce che è in fase di costruzione nella zona, nella piazza, proprio da tempo al centro della riqualificazione che interessa quella parte di Milano e sono i residenti a raccogliere le firme a parlare al microfono di Alberto Carreras. Proprio non piace ai residenti, tanto che hanno indetto una raccolta di firme per una petizione da inviare all'amministrazione comunale. Stiamo parlando del chiosco in muratura in costruzione nella riqualificata piazza 24 Maggio nella zona della Darsena a Milano. Qualcuno, forse in modo eccessivo, lo ha già bollato come eco-mostro. Il chiosco per la vendita di pesce esiste da una cinquantina d'anni. Adesso è stata rivista la collocazione nella piazza e la superficie è quasi raddoppiata da 50 a 90 metri quadrati. L'impatto visivo non è dei migliori. E un gruppo di residenti ha chiesto l'intervento del Comune per fermare i lavori e, se necessario, giungere sino all'abbattimento. Secondo più voci sarebbe stato meglio che la rivendita del pesce venisse collocata all'interno del nuovo mercato, da poco aperto al pubblico. La proprietà del chiosco si difende dicendo che l'esercizio commerciale è vecchio di 50 anni, fa parte integrante della piazza. Ci lavorano 13 persone e viene pagato un canone di 9.700 euro all'anno e ogni sera chiude non oltre le ore 22. La struttura però non piace come non vengono apprezzate altre scelte. C'è il gusto del bello, tempo dedicato a fare una pavimentazione ricercata e poi non si capisce dov'è la difesa dell'artistico, della proprietà milano-artistica, della storia di Milano. E questo? E questo? Eh, non si vede più l'altra parte della piazza. Ma questo bisogna andare a chiederlo. A chi ha autorizzato questo progetto? Valorizziamo Milano sotto il punto di vista artistico? Ok, le scelte sono conseguenti. Ma se non c'è un disegno di fondo, una strategia, certo non è bello. Ma chi l'ha autorizzato? Loro i disegni, i progetti li sapevano. Io non è che me ne intendo, la mia età non è che posso dire. Però, insomma, guardino loro quali abitano qui in zona che reclamano di più di tutti. E' meglio metterla all'interno del mercato? Così dicono. Vi invito ad andare dall'altra parte della piazza e vedere cosa della piazza vedete stando dietro questa costruzione. Qua bisognerebbe chiederlo alla sovrintendenza delle belle arti che è autorizzato e i progettisti cosa volevano perseguire. Sempre in piazza 24 maggio, il comune sta tentando di salvare la grande quercia piantata nel lontano 1918. Sei sostegni di ferro sono stati collocati per evitare possibili crolli. E parliamo ora di cronaca e del terribile femminicidio di domenica. Solo ora mi rendo conto di aver ucciso Sonia. Così ha detto Gianluca Maggioncalda, il 42enne, che appunto domenica ha strangolato la fidanzata Sonia Trimboli parlando con il suo difensore che oggi è andato a trovarlo nel carcere di San Vittore dove si trova. E' molto provato ed è distrutto, ha detto l'avvocato. L'uomo comparirà domani alle 10 nel carcere di San Vittore davanti al GIP di Milano Donatella Banci Buonamici per l'interrogatorio di garanzia. Secondo il suo legale, Maggioncalda ha intenzione di proseguire nell'atteggiamento collaborativo dopo la confessione resa domenica sera alla polizia e al PM Giancarla Serafini. L'autopsia invece sul corpo della donna verrà eseguita nella giornata di giovedì. Ancora cronaca, un altro caso, questa volta giudiziario, annoso caso giudiziario, quello legato a Marco Pantani. Confermo che Renato Vallanzasca è stato sentito quattro ore ieri e due oggi nel carcere dove si trova ristretto e che ha parlato di quanto accaduto nel giugno del 1999. La conferma arriva direttamente dal procuratore di Forlì, Sergio Sottani, che ha riaperto il caso inerente all'esclusione di Marco Pantani dal Giro d'Italia 1999 che il pirata stava dominando. Vallanzasca avrebbe riferito agli inquirenti di essere stato avvicinato in carcere da un esponente della Camorra che, visto il ruolo di prestigio di Vallanzasca all'interno della mala italiana, era desideroso di fargli un regalo suggerendogli di non giocare, come stavano facendo tutti, la vittoria di Pantani al Giro d'Italia perché il pirata quel giro non lo avrebbe portato a termine. La procura forlivese, risalendo al carcere dove all'epoca dei fatti era detenuto Vallanzasca, cioè quello di Novara, e al braccio della struttura carceraria dove si trovava la sua cella, ha stilato una lista di dieci nomi. Lo stesso Vallanzasca, una volta letta la lista, avrebbe confermato, senza però farne il nome, che al suo interno si trova il nominativo del camorrista di cui lui parla. Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato di Pavia, con la collaborazione di forestali di altri comandi lombardi e della sezione di polizia giudiziaria, hanno eseguito nove ordinanze di custodia cautelare disposte dal GIP di Pavia ed hanno arrestato quattro ricettatori romeni che sono stati sorpresi in flagranza di reato in possesso di rame rubato. L'operazione si è svolta tra Milano e Pavia e ha coinvolto 80 forestali suddivisi in 21 pattuglie. L'attività è il risultato di un'inchiesta cominciata nell'aprile del 2013 su delega della procura di Pavia e che ha visto gli agenti della forestale impegnati anche in intercettazioni ambientali. Alcuni degli arrestati sono stati anche iscritti nel registro degli indagati della procura per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e per falso documentale. Nel corso dell'operazione, i forestali hanno sequestrato i locali dove il cosiddetto oro rosso veniva ripulito e depositato in attesa di essere poi consegnato alle ditte che si occupavano di riciclarlo e poi di rivenderlo. Tempi rispettati fino a questo momento nei restauri della Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Si lavora adesso ai portici settentrionali e meridionali. In un sopralluogo l'assessore ai lavori pubblici Carmela Rozza ha fatto il punto della situazione anche se non mancano come al solito le polemiche che arrivano ovviamente dall'opposizione. Entro l'inizio di Expo tutta la Galleria Vittorio Emanuele a Milano sarà restaurata. Lo ha confermato l'assessore Carmela Rozza nel corso di un sopralluogo. I costi si aggirano sui 9 milioni di euro poi ogni anno la manutenzione ordinaria assorbirà almeno un milione e mezzo di euro. 5 milioni e mezzo sono i costi complessivi a carico del Comune. Uno e mezzo già stanziato e quattro ancora da investire e tre e mezzo invece arriveranno dai privati. Adesso i lavori sono partiti anche sui portici nella zona di Piazza del Duomo. Si lavora sui portici settentrionali e su quelli meridionali che sono collocati ai lati della galleria. Vengono restaurati 33 plafoni di 25 metri quadrati ciascuno e poi i capitelli di marmo di Carrara e gli archi in granito rosa. I lavori vengono effettuati soprattutto di notte per non intralciare eccessivamente i commerci e i turisti. Un grosso contributo è stato dato dal Maxi Ponteggio Mobile che ha facilitato e velocizzato gli interventi. Viene svolto un intervento a tre campate per volta su entrambi i portici proprio per non dare particolare disagio alle attività commerciali. E si è lasciata la prima campata dove c'era un'edicola apposta perché in quella campata verrà installato un ponteggio un ponteggio provvisorio particolare. Il ponteggio viene installato di notte e man mano che le campate vengono pronte viene traslato con dei rulli alla base in maniera da sveltire le operazioni di montaggio delle opere provvisionali. Critiche sono giunte dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo Decorato. Metà dei soldi sono stati versati da Versace come contropartita per il subentro alla gioielleria Bernasconi ha detto il consigliere di opposizione e il TARA ha bocciato questa delibera e la Corte dei Conti ha chiesto di ottenere tutta la documentazione. La politica adesso perché il sindaco di Milano Giuliano Pisapia in qualità di sindaco della città metropolitana ha convocato il consiglio metropolitano per il 29 di ottobre. La seduta si svolgerà nell'aula consigliare della provincia di Milano così come è la prima della storia di questo nuovo ente. Nell'ordine del giorno è scritto nel comunicato è prevista la trattazione della modalità di funzionamento del consiglio e l'organizzazione dei lavori di predisposizione dello statuto della città metropolitana. Proprio oggi i consiglieri metropolitani della lista civica costituente per la partecipazione cioè il radicale Marco Cappato e il socialista Roberto Biscardini erano tornati a sollecitare Pisapia affinché convocasse una nuova seduta degli eletti del nuovo ente dopo la riunione inaugurale di due settimane fa. Inoltre avevano sottolineato i due non possiamo che registrare come anche a livello di comune di Milano non sia stata formalizzata finora alcuna proposta in materia di autonomia amministrativa delle zone condizione indispensabile ad impedire che il prossimo sindaco della città metropolitana sia nuovamente il sindaco di Milano. Il Consiglio regionale invece ha commemorato in apertura della seduta odierna il centenario della Prima Guerra Mondiale una cerimonia scusate formale con la presenza anche di alcuni alpini ma in aula è spiccata l'assenza in massa di tutto il gruppo della Lega Nord quando all'inizio della cerimonia è risuonato l'inno di Mameli l'inno d'Italia a quanto si è preso i leghisti avevano chiesto che al posto dell'inno nazionale ci fosse un coro degli alpini così in aula ma in veste istituzionale per la Lega c'era solo l'assessore Cristina Cappellini che doveva tenere un discorso di commemorazione dopo quello del Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo una volta risuonato l'inno comunque i consiglieri del Carroccio sono entrati in aula per assistere alla cerimonia di commemorazione dei caduti perché hanno spiegato che non c'è nulla di polemico secondo loro contro la cerimonia in sé ma è stato giusto ricordare con rispetto i caduti di quella guerra l'ATM adesso perché è arrivata da Roma una notizia importante siamo disponibili ad entrare in ATAC e ATM in un quadro di privatizzazione delle municipalizzate di Roma e Milano privatizzando con noi si può fare un servizio integrato con le ferrovie e migliorare l'efficienza così la D di Ferrovia dello Stato Michele Elia in audizione in Commissione Industria e Trasporto al Senato nella prima parte di questa audizione Elia aveva parlato di una disponibilità di Ferrovia dello Stato a ragionare con le amministrazioni locali per gestire meglio il trasporto pubblico locale nessuna ipotesi esclusa molto dipende dalla governance ha detto Elia in seguito sollecitato dal Presidente della Commissione Massimo Mucchetti ha specificato l'eventuale disponibilità di Ferrovia dello Stato a entrare sia in ATAC quella romana sia nella nostra ATM e intanto sono tornati e chiudiamo qui il nostro telegiornale sono tornati in diocesi i 3.000 pellegrini che hanno partecipato alla beatificazione di Paolo VI al termine del pellegrinaggio l'arcivescovo Scola è tornato sui temi principali del sinodo straordinario sulla famiglia che si è appena concluso il servizio è di Anna Maria Braccini una forte esperienza di chiesa di popolo è quella che gli oltre 3.000 pellegrini provenienti dalla chiesa di Milano hanno vissuto con la beatificazione di Paolo VI nel momento attesissimo di piazza San Pietro ma anche con gli eventi eriti che hanno preceduto la celebrazione solenne e che l'hanno seguita come la messa di ringraziamento presieduta dal Cardinale Scola nella basilica di San Paolo fuori le mura poco prima del rientro nelle rispettive diocesi dei pellegrini di Milano e di Brescia e nella quale l'arcivesco ha parlato anche del sinodo straordinario sulla famiglia appena conclusosi il tema principale del sinodo che è identificabile con una espressione un pochino in ecclesialese cioè che la famiglia è il soggetto dell'evangelizzazione cioè vale a dire che tocca agli sposi ai nonni ai genitori ai fratelli e alle sorelle comunicare nella vita reale a tutte le persone alle altre famiglie qualunque sia la loro condizione dal punto di vista del riferimento alla Chiesa comunicare la bellezza dell'amore che in Gesù Cristo hanno avuto il dono di ricevere e di poter praticare anche condividendo fatiche difficoltà un significato di impegno e di testimonianza che ha percorso l'intero evento della piantificazione e che ha visto più volte tornare il tema del ruolo della famiglia come protagonista la Chiesa deve nascere dal cuore delle persone e adesso in questa fase questo il sinodo ci ha detto deve nascere soprattutto dal cuore delle famiglie torna il grande calcio della Champions League oggi a un quarto d'ora dalla fine il Manchester City sta battendo a Mosca il CSKA nello stesso girone della Roma e del Bayern Monaco che saranno di fronte invece questa sera all'Olimpico domani poi la Juve in Grecia con l'Olimpiakos per seguire questa serata di grande calcio il direttore Gianni Visnadi i suoi ospiti con nuova stadio speciale Champions League dopo il meteo questo TG invece termina qui buona serata da parte mia a tutti quanti davvero